Qui vi presentiamo le 5 migliori shampoo anti-caduta uomo. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. BioSlean 1700 BioCup Shampoo Anti-Caduta. Ha una formula fragile con tensioattivi piacevoli, per un uso quotidiano anche durante la terapia della caduta dei capelli. Composto da sav palmetto, semi di zucca e olax di citiflora pianta africana, per un'efficace azione sul bulbo pilifero. Con l'eliminazione della vite rossa, e anche degli oli essenziali di rosmarino e tea tree provenienti da coltivazioni non chimiche, aiuta a migliorare il trofismo del bulbo pilifero. Infine, i fitosteroli originati dall'olio di semi di zucca rifiniscono la composizione del capo in modo collaborativo. Passando al numero 4. Collistar Shampoo Rivitalizzante Anti-Caduta. 250 ml. Spiluppato appositamente per un'efficace prevenzione della caduta, questo shampoo per capelli deterge delicatamente, dona vitalità oltre che irradiare ai capelli, favorendo il riequilibrio idrolipidico dei capelli e anche del cuoio capelluto. Usato regolarmente, in abbinamento alle fiale, rende i capelli più forti e anche più resistenti e ne impedisce la caduta. Massaggiare sul cuoio capelluto e sulle dimensioni, delegare un paio di minuti, dopo il lavaggio. Si adatta al lavaggio per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Shampoo Anti-Caduta Uomo e Donna. Dermatologicamente testato. Il prodotto promuove la crescita dei capelli, previene la caduta dei capelli e migliora la robustezza delle radici. È un trattamento anti-età completo per il cuoio capelluto. Aiuta a controllare il prurito e anche la desquamazione causata dalla psoriasi persistente del cuoio capelluto, dalla dermatite seborroica e anche dalla forfora tipica. Non è costituito da solfali, siliconi, parabeni, formaldeide e sfumature o profumi. Almostat è top of our list at number 2. Bioscalin Fisiogenina Anticaduta Capelli Uomo più Shampoo 100 ml Novità 30 CPR. Nella confezione è compreso un integratore alimentare da assorbire miscelato con lo shampoo. L'integratore eleva la sua efficacia collegando componenti energetici distinti e brevettati. Frutto di una delle più attuali scoperte giuliani in campo tricologico, con nutrienti dalla riconosciuta azione. Il cuore della formulazione è l'innovativo impianto fisiogenina, che promuove il benessere dei capelli, sostenendo così la procedura di autoriparazione fisica mobile dei follicolini. E infine il numero 1 della nostra lista. Revivogen MD Biocleansi È uno shampoo detergente coadiuvante anticaduta, perfetto per lavare i capelli quotidianamente. Il suo normale utilizzo permette di donare quantità e irradiare ai capelli. Include componenti attivi anti-DHT, idratanti, rigeneranti e rilassanti. I tensioattivi presenti nella formulazione sono estremamente fragili. Viene utilizzato in una bottiglia da 360 ml e maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.